105 Lost Music Allora io aspetto la domenica per questo rullo di applausi, domenica 17 dicembre ci stiamo avvicinando alla vigilia di Natale, questo è un appello per tutti i fidanzati e gli amici che sono costretti ad essere portati in giro tra i mercatini di Natale per fare questi fatidici regali natalizi. Ecco questo è un invito a prendervi diciamo una pausa, a rilassarvi insieme a me, ad ascoltare la musica più bella di sempre in queste due ore insieme. Infatti direi proprio di cominciare con un artista un po' speciale perché con la sua musica riesce a mixare varie sonorità tra il pop e l'urban, l'italiano e il portoghese, sto parlando di Gaia. E il pezzo che ascolteremo tra pochissimo è un invito a lasciarsi andare, un billetto di sola andata senza limiti e restrizioni, gabbi e via tutto con Tokyo di Gaia. Tutto volume. Dove c'è?